L'hanno chiamata Sepino verso Sepino, ma significa Sepino insieme al mondo. Si tratta di una benemerita iniziativa sociale, un torneo di calcetto che si è svolto ai piedi del Matese, al campetto delle Pere e che ha unito lo spirito di accoglienza della comunità matesina a pezzi di umanità provenienti da posti lontani nel mondo, da teatri di guerra, fughe, separazioni, drammi e fragilità. Storie che hanno sentito il crack della vita, come legni secchi che si spezzano sotto la suola di una scarpa. Il mondo chiama e Sepino risponde. Sepino verso Sepino significa questo, un progetto di affratellamento, riscatto, cura, destinato a minori non accompagnati, rifugiati, ragazzi fragili provenienti da continenti lontani e altre latitudini. Anche una partita di calcetto può diventare un ponte di integrazione, un ponte per passare dalla tenebra della notte alla luce di un giorno che sa di riscatto e speranza. Quattro calci ad un pallone per spaccare la cataratta dell'indifferenza. L'iniziativa nasce da una sinergia collettiva di enti, associazioni e professionalità che hanno a vario titolo contribuito alla riuscita dell'evento. Il Comune e la Proloco di Sepino, i centri SAI e CAS che nascono da progetti afferenti al Ministero dell'Interno e alla Prefettura di Campobasso. Emozione, partecipazione e fiducia come emerge dalle voci degli organizzatori. Sepino verso Sepino è un ponte di integrazione. È una partita di calcetto che coinvolge i minori del CAS di Sepino, i beneficiari invece del progetto SAI adulti e ragazzi della comunità sepinese, proprio perché l'intento è quello di una partita di integrazione e di inclusione. Sono dei ragazzi splendidi e usufruiscono di queste fantastiche iniziative. Adesso però facciamo vedere anche il manifesto della manifestazione. Faccio i miei complimenti alla coordinatrice, a tutti gli organizzatori perché i ragazzi si stanno divertendo. Il posto è bellissimo, sono giornate splendide e speriamo che ci saranno altre iniziative di questo tipo. Ci tengo a ricordare e ringraziare sia l'ente locale, il Comune di Sepino che la Prefettura ha di Campobasso per appoggiare e sostenere questi progetti di accoglienza che ci permettono di rafforzare la comunità locale e riuscire nel percorso di integrazione dei ragazzi. È stata veramente un'ottima giornata, una bellissima giornata. I ragazzi sono divertiti. Ringrazio il CAS, veramente è stata un'organizzazione perfetta e saremo lieti di organizzare i prossimi eventi ancora con voi. È stata appunto, confermo, una giornata bellissima all'insegna dell'amicizia, dell'integrazione e soprattutto dell'abbattimento delle barriere culturali, linguistiche che inevitabilmente a volte anche inconsapevolmente innalziamo. Mi piace pensare che ognuno di noi possa essere una luce, ognuno di noi ha una luce dentro di sé ed è questa la meraviglia di questa giornata. Grazie.